Da Verona con amore il bollito con la peara Mondiamo le verdure per il brodo e passiamo alla carne Per questa ricetta abbiamo scelto il biancostato di bovino PAM 100% italiano che è buonissimo Come tutta la carne che trovi in PAM Togliamo il midollo dall'osso buco e mettiamo tutto in acqua bollente e lasciamo cuocere per un'ora Intanto grattugiamo il pane e sciogliamo il midollo con del burro in un tegame Aggiungiamo il pan grattato, il brodo, il pepe a buso Mescoliamo finché non si rapprende e cuociamo 2-3 ore con il coperchio Serviamo il bollito di carne con un mestolo di peara in ogni piatto Buon appetito! Grazie!